Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'Unità Territoriale di Macerata e l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Nella sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Unità Territoriale ACI di Macerata e la locale sezione dell'ANMIL, al fine di promuovere una campagna informativa sui servizi a domicilio offerti da ACI. Chi sono gli stakeholder del progetto? Oltre ai soggetti sottoscrittori, tutti i soggetti diversamente abili nella provincia di Macerata. Quale valore sociale ha generato il progetto? Ha evidenziato la grande attenzione da parte di una pubblica amministrazione nei confronti dell'utenza cosiddetta debole. Quali risultati ha generato il progetto? La conoscenza e la conseguente fruizione del servizio a domicilio da parte di tutti gli aventi diritto della provincia che ne hanno fatto richiesta. Quali sono gli obiettivi di miglioramento del progetto? Stipulare protocolli d'intesa con altri stakeholders presenti sul territorio.